amiche e amici appassionati di grande ciclismo dopo una breve pausa ma essendo colpevole insomma la riterei anche un pochino qualcosa di più di breve spero mi sia perdonato da voi che ci ascoltate soprattutto dal mio compagno di viaggio Riccardo Magrini Riccardo grazie ciao Roberto ma figurati ci volevo una pausa stavo per dire visto che siamo sempre sulla nostra ben amata una pausini una pausini eh sì e invece io ho cominciato e sono emiliane tutte e due anche se una un pochino più romagnola mi sembra la pausini di solarolo del paese di Cassani esatto il paese di Cassani e io sono andato invece implorando il perdono come diceva una cantante di come cantava una cantante di Sassuolo Caterina Caselli sapevi che fosse di Sassuolo Sassuolo certamente sì perdono 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 casco d'oro è casco d'oro è stato un mito poi è un mito anche della discografia insomma certo la Sugar è una casa discografica importante senti come sono preparato anche così grande tale scout certo certamente sì beh l'ultima puntata che abbiamo fatto come ospite avevamo un mitico mitico Giampieretti certo forse quello è stato la botta clamorosa che ho creato ci ha fatto riflettere un po' di più va bene no no la colpa è solo mia e si può notare da questo cambio di location ma insomma dai ci sta un pochino in stile arte povera toscana vede queste travi al tetto ho un tetto dove da pochi giorni sono tornate le rondini eh che comunque non fa primavera perché ora mi sa che ritornerà il freddo dice insomma comunque va bene eh ricordo anni fa Francesco Mosera a commentare il tour of the alps e alle domande che gli facevano e c'era stato proprio un brusco calo di temperatura le domande che gli faceva sulla corsa lui pensava a ai fiori e alle mele che e con la brina e col freddo certo non la aiutavano bene ma noi torniamo un pochino in carreggiata anche se dobbiamo dire i corridori ora non andiamo a aprire una ferita già lanciata approcondita da altri sulla carreggiata talvolta non ci sono non ci sono rimasti e qui pregiudica un po' la stati list delle prossime gare delle prossime grandi gare a tappe riccardo è corretto roberto sì in effetti siamo un po' stati condizionati ma l'ultimo periodo è un po' quello un po' clamorosamente condizionato dalle dalle cadute dagli incidenti soprattutto occorsi ai vari protagonisti della sfortuna perché comunque a partire da bernal è primo primo di tutte sta off room però insomma diciamo che quello che che aveva segnato un po il passo è stato bernal che fortunatamente sembra che stia ritornando a livelli non ancora espressi però sta già bene il problema che abbiamo perso van art maledettamente con quella su quella attraverso le fiandre in una caduta banalissima e abbiamo perso lui per la parte importante per lui insomma le corse delle pietre e poi il giro d'italia e poi c'è stata quella brutta caduta al giro dei paesi baschi che ha fatto fuori praticamente due possibili protagonisti importanti di questo inizio di stagione che sono rogrice e venepul poi insomma sembra che rogrice non stia male ma soprattutto vingegaard per il tour de france io non sono ancora tanto convinto che lui possa partecipare alla gran bucle però e poi insomma vabbè anche gli altri ragazzi che sono fatti male anche vine non ha accusato è stata una brutta caduta e comunque il problema è che ci hanno tolto i protagonisti possibili eh di di questo di questa inizio di stagione anche del del giro e del tour probabilmente perché comunque domenica prossima ci sarà la leggi baston 10 è uno dei papabili della leggi baston 10 perché ha già vinto è stato era i venepul e non potrà partecipare quindi eh ci hanno privato di questo di questo godimento di questo tristassi che poteva essere Pogacar, Van der Poel e appunto e Venepul assolutamente sì è chiaro quello che dici consentimi anche anche un pochino scontato purtroppo e guarda proprio in questi giorni ricorreva il trentanovesimo anniversario della mia partenza per il servizio di leva ma non era questo la cosa importante l'importante è che tra i tanti motivi per cui abbandonai insomma molto tristemente eh la mia demora era che quella sera a cui io salì in treno per Bari da Ponte d'Era poi Firenze Bologna Bari eh si sarebbe risputato un grandissimo match per il titolo dei medi della box tra Marvin Hagler e Thomas Hirns capito? Io sapevo di perdere un grande incontro me lo sono rivisto su YouTube due riprese e mezzo se le sono date di santa ragione poi il grande il merveilleuse eh Marvin stesse Hirns ma veramente credo che ebbe anche una lussazione al polso insomma queste grandi sfide e mi viene in mente che già lo scorso anno pronti via alla Liege Bartogliegi il polso eh vedete praticamente fuga alle otto anche nei confronti di Pogacar e non si vide quella sfida quasi consegnando in una maniera fin troppo scontata la sua seconda Liege all'allora campione del mondo Remco e Venepoel adesso stando rigorosamente sulla Liege viene da pensare ma Van der Poel può valere davvero Pogacar a Liege in fondo non c'è più l'arrivo a dans per cui si può pensare anche che possa tenere ma io sai il discorso di di Van der Poel avendolo visto correre l'Amster l'Amster gol race domenica scorsa a distanza di una settimana e mi è sembrato molto molto proiettato verso la Doyen perché la Doyen naturalmente per chi non lo sapesse la Dieci Baston Dieci la veterana la vecchia corsa belga e mi è sembrato proprio quasi così non rinunciatario però dice ma se perché in corsa c'era non è che non c'era però era gli eventi se fosse stato se gli fosse capitata l'occasione magari poteva anche perché no cercare la vittoria però siccome l'occasione non ci sarà presentata è stato la tranquilla e buono oltretutto si è defilato anche nella volata non interessava fare niente di che che non fosse un piano giro d'altronde l'Amster l'aveva già vinta ma mi è sembrato proprio predisposto per la Dieci e noi tutti aspettiamo questo duello che non è più un triello ma comunque eh i corridori ci sono ehm in quella corsa e poi è una corsa è una corsa importante la è la è la quarta monumento ehm poi viene preceduta dalla dalla freccia eh di domani che comunque è di mercoledì eh quindi insomma eh un po' d'attesa c'è però non sono proprio sicuro che saranno proprio loro due a determinare eh la la corsa ma penso più a una corsa un po' pazza ecco diciamo così non 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 credo che sia così scontato il fatto che 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 sia Vanderpool e e e lo stesso Pogacar a determinare le sorti della della Dieci due provocazioni Riccardo e anche un pochino sonore ha detto una corsa pazza eh pazza idea la tua una pazza idea per una corsa pazza e qui c'è fatti bravo però eh diciamo anche per correlare la tua teoria che non non nascondo sia anche la mia e qui mi stanno chiamando ma noi siamo impegnati e messaggiato sei messaggiato sono messaggiato come ti capita a te durante la diretta il bello della diretta però non voglio perdere il filo io eh è vero quello che tu hai fatto notare però vorrei ricordare anche come pregresso che Vanderpool è quella maglia lilla conquistata a Glasgow e insomma alla fine è stato un mondiale impegnativo diciamo quello che si vuole ma è stato impegnativo cioè alla fine sono state delle facce d'angelo cioè non è che poi sia pulso Vanderpool alla a una corsa come la Liege poi c'è l'altro riferimento sonoro prego canoro prego no no ma ma io non stavo discutendo il discorso della diciamo della possibilità anche per la durezza del percorso assolutamente no anche perché uno che vince il fiandri vince la rubè non è che ha paura della dieci cioè è un corridore questo un corridore che ti innamora anche da come corre da come va in bicicletta da come interpreta mi sembra ancora molto più più maturato rispetto ai anni e quindi non non escludo assolutamente il fatto di essere diciamo così per il percorso non la vedo più non so quanto sia forte la squadra in questo frangente cosa che ha dimostrato benissimo la parigi rubemma ma anche anche domenica l'amster non so quanto sia forte quella squadra lì e non so nemmeno quanto possa essere determinante la squadra di Pogaccia che tutte le volte eh che si è presentata quest'anno ha sempre fatto bene anche all'amster voglio dire è arrivato secondo Irci non è che è arrivato ora mi sembra che sia il momento sono non lo so sensazioni mi sembra che sia il momento del girone di ritorno di alcune squadre che fino a ora aveva toccato non aveva toccato palla ecco ma speriamo speriamo per l'amico l'amico così ironico Lefebvre o Lefebvre perché insomma mi sembra che anche nel girone di ritorno non è che tocchino troppo la palla no ma lui 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 credo che sia nei fondaci in questo momento della della classifica perché comunque in ogni caso sì Vansemenet ha fatto un quarto posto eh di di proprio di meglio meglio quarto che decimo dodicesimo no mi è sembrato di questo l'ho detto anche in cronaca eh sì ma io non pensavo a lui eh pensavo sinceramente pensavo a a quelli rossi di cioè rossi e quelli amaranto eh insomma quelli che stanno che stanno dominando in questo momento questa fase eh di 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 corse non lo so cioè poi poi ti dirò il fatto che ci sia formulo e che abbia cambiato squadra io formuli cioè una vittoria italiana io non lo so me la sento ecco non lo so così siccome fa come formulo eh tu ridi lo so ma però guarda che formulo aveva fatto un secondo posto sì dietro a Fulzac assolutamente ma non ce l'ho assolutamente con formulo però è chiaro che devi mettere un po' di sale e ci metti sempre gli italiani a me mi viene in mente Don Bucking me ne sto lì seduto assente con un cappello sulla fronte ti ricordi il titolo di questa canzone sognando certamente eh una bellissima canzone fra altre cose parlava di di manicomi quindi sì infatti secondo me anche Franco Zeffirelli in amore senza fine ci ha preso lo spunto e nonché la grande mina cantò questa grande fu interprete di questa canzone verissimo per concludere e concluderei con Van Der Poel che veramente al grande ciclismo come ha ricordato te al grande ciclismo intendo veramente di vederlo su strada a grandissimi livelli ha ricordato te ampiamente domenica fu quella pazza pazza Amstel dove Fulzac e alla Filippi si guardano in Cagnesco e lui correndo male dispendendo tantissimo partendo male veramente riuscì a far sua e come cattano ricchi e poveri mi innamoro di te questo è quello che è successo a me però come hai descritto te questa evoluzione ti direi che di concludere un pochino sempre citando Van Der Poel con Fiorella Vannoia come si cambia adesso è diventato veramente un soldatino bravo che a volte e gli manca un po' come dire un po' di benzina da ultimo nella volata dov'è successo questo alla grande Belgen? Sì beh ma lì ha trovato un campione del mondo di par suo cioè Pedersen Pedersen non è il corridore che quando vinse in England in Gran Bretagna che quando saltò per aria proprio Van Der Poel che si disse ah meno male eh ci avevamo Trentin si pensava di farla franca invece no ma in quell'occasione Luca Quercilena mi disse guarda Riccardo che questo qua te ne appoggerai sarà un colore vedrai che ne risentirai parlare ancora e in effetti Pedersen è sempre stato è stato positivo un corridore forte corridore da campionato del mondo quindi l'ha battuto un suo pari grado diciamo così non fuori classe come lui però un bel campione questo sicuramente Riccardo e saremo anche noi a destreggiarsi stasera mi sono un pochino voluto riprendere la parte canora che c'era mancata nelle prime puntate mi sia consentito questo Riccardo d'altra parte è il nostro come dire nel nostro DNA è il nostro timbro vero? scatto e stacco è il nostro titolo quindi è giusto che tu abbia fatto dei riferimenti canori anzi anche poi azzeccati grazie Riccardo grazie compagno di viaggio alla prossima e vedremo come andrà a finire questa pazza idea da manicomio saluti a tutti